Buonasera, l'apertura di questa seconda edizione della telegiornale è riservata a quanto accaduto nei giorni di Capodanno sulle strade siciliane ancora cosparse di sangue per Capodanno. Due incidenti mortali nel giro di poche ore, uno a Belpasso e l'altro a Modica nel Ragusano. Nel primo incidente è morto un giovane di Belpasso, nel secondo invece un medico già primario della chirurgia dell'ospedale di Siracusa. Vediamo nel dettaglio. Inizia tragicamente l'anno in Sicilia due incidenti stradali mortali. Il primo in ordine di tempo, dopo appena due ore dall'inizio del nuovo anno a perdere la vita un 26enne, Belpassese, Matteo Virzi, si è schiantato con la propria autovettura contro lo spartitraffico centrale di una strada di piano tavola. Il secondo incidente invece si è verificato nella tarda serata di ieri, sulla Pozzallo Modica, la strada statale 194, un morto, sei feriti, nello scontro frontale tra una Opel Corsa e una Fiat Tipo. A perdere la vita un medico in pensione di Siracusa, Angelo Giudice, 74 anni, noto nella città retusea perché specialista in chirurgia toracica, la salme già all'obitorio dell'ospedale modicano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sei feriti, tra cui due bambini, uno di questi, di nove anni, è stato trasferito in gravi condizioni al trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania. La prognosi è riservata. Tutti gli altri feriti sono stati condotti negli ospedali di Modica e Ragusa. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Modica. Angelo Giudice viaggiava a bordo della Fiat Tipo che si è scontratta contro una Opel Corsa guidata da un messinese. Quest'ultima autovettura procedeva in direzione di Modica mentre la Fiat Tipo viaggiava verso Siracusa. L'impatto è stato frontale, devastante e ha cagionato la morte di Angelo Giudice. Le due autovetture sono state sequestrate dall'autorità giudiziaria. Tornando a piano tavola di Belpasso, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò indagano per accertare l'esatta dinamica dell'incidente autonomo. Che è costato la vita al 26enne Matteo Virzi, molto noto a Belpasso, più amante della musica, particolarmente legato alla comunità locale. Alta velocità, oppure un momento di distrazione, oppure un ostacolo improvviso, un malore o forse le condizioni della strada. I militari dell'arma valutano tutte le ipotesi per capire come quella autovettura abbia finito la propria corsa contro lo spartitraffico centrale. L'inizio del 2024, felicissimo nel reparto di neonatologia dell'ospedale Garibaldinesima di Catania. Giorgia ed Isabella hanno emesso il loro primo vagito un secondo dopo la mezzanotte che ha segnato l'inizio del nuovo anno. Entrambi i parti sono avvenuti in modo naturale. Giorgia e Isabella, due belle bambine paffute, venute alla luce solo qualche secondo dopo l'inizio del 2024. Gioia e menza nel reparto dell'ospedale Garibaldinesima di Catania. Entrambe le bambine nate con parto naturale, che pesano rispettivamente poco meno di 3,3 kg e poco meno di 4 kg. Un raggio di sole che è andata ad illuminare due famiglie catanesi. Sì, lei si chiama Giorgia di Forte, è nata il primo gennaio del 2024 ed è stata una delle prime a nascere in Sicilia. Senta, questa coincidenza come prima dell'anno... Non ci abbiamo pensato sinceramente, avevamo altro da pensare al travaglio, a tutto. Poi abbiamo chiesto ma che ore sono, è mezzanotte e quindi c'è stata festa. In casa sua arriva tanta gioia ma anche qui nel reparto. Sì, sì, ma intanto domani non vedo l'ora che esce, già stanno facendo tipo festa nazionale. Ma il reparto è stata una seconda casa, perché poi quando è successo questo evento che è nato a mezzanotte, tutti contenti a farci gli auguri, è stato bello. Lei è la seconda esperienza come mamma? Sì, già c'è un maschietto di nome Giovanni che ha due anni e l'aspetta a casa, stamattina gli mandava i bacini. Sempre è nato in questo reparto? Sempre qui, sì, sì, sempre con la stessa equip e con le stesse ostetriche, veramente, mi sono trovata troppo bene. È un ospedale in gamba e poi sono bravi, sono professionali, ormai tanti anni che lavorano insieme e quindi si incastrono bene. Cioè io non vedevo neanche che parlavano tra loro, lavoravano così andavano e ti aiutavano dall'inizio alla fine. La gioia anche non solo per loro, ma anche per il nostro reparto, avere queste due nascite, che conferma che quando ci sono tanti parti può accadere anche che la contemporaneità di due parti, se poi accade a capodanno, crea ancora più stupore. Però devo dire che durante l'anno è frequentissimo che le nascite avvengano contestualmente in due o tre sale parti. Noi ne abbiamo quattro, di cui due con la vasca, e abbiamo anche il personale che può dividersi senza dover mancare quella presenza costante e continua non solo dell'assistenza, ma anche di quell'empatia che è necessario offrire alla donna e alla coppia in un momento veramente magico che è il travaglio che poi porta alla nascita. Un reparto, professore, che è anche una famiglia con tanta gioia da parte delle mamme che non hanno lesinato complimenti anche nei vostri confronti? Beh sì, perché in fondo le mamme qui iniziano un percorso già molto prima del parto, cioè vengono qui nei nostri ambulatori, seguono tutto il monitoraggio, quindi conoscono le ostetriche, conoscono i medici, conoscono gli ambienti, fanno il corso di accompagnamento alla nascita, quindi con i papà, e questo è di grande impatto da un punto di vista di quella sicurezza che prima era garantita solo a domicilio, quando si partoriva a casa. Aver trasferito in ospedale uno scenario simile, ecco questo è stato sempre il nostro grande impegno del Garibaldi e su questo grazie anche al fatto che abbiamo raggiunto non solo un numero di personale sufficiente e adeguato per poter affrontare anche le contemporaneità, ma anche da un punto di vista della preparazione, della formazione costante e continua per far sì che mai si abbassi il livello della sicurezza. Anche quest'anno tra Palermo e Catania sono stati numerosi gli incidenti e le persone rimaste ferite a causa dei botti di capodanno. A Capaci nel Palermitano un brutto incendio è scoppiato sul balcone di una palazzina. Vediamo. I festeggiamenti sono in corso, in lontananza si vedono i fuochi d'artificio da un balcone di una palazzina di due piani a Capaci. In provincia di Palermo qualcuno lancia un petardo, finisce nel balcone dell'appartamento di sotto dove c'è della roba stesa ed è così che scoppia improvvisamente un incendio. Ad aggravare la situazione, il fatto che, per disgrazio o per fortuna, gli inquilini del primo piano non si trovavano in quel momento in casa, erano fuori a festeggiare il Capodanno. L'episodio, che poteva avere conseguenze tragiche, è finito nel migliore dei modi grazie alla presenza di un ispettore di polizia fuori servizio che in quel momento si trovava lì. La gente che lavora presso la questura di Vibo Valencia si è arrampicato per i balconi ed è riuscito a spegnere il fuoco con dei tappeti che ha trovato stesi. Nelle operazioni di spegnimento è stato aiutato dal fratello volontario dei vigili del fuoco di Gardolo, località a nord di Trento. L'ispettore è rimasto lì in attesa dei pompieri e del proprietario di casa, il quale, appena arrivato, lo ha ringraziato per il gesto di grande coraggio e altruismo dimostrato. La notte di Capodanno a Palermo sono stati oltre una decina gli interventi dei vigili per incendi di cumuli di rifiuti o tendoni in strada provocati dai botti di fine anno scoppiati prevalentemente nei quartieri periferici dello Zen, Falso Miele e Sperone. Situazione quasi identica anche nell'altra grande provincia della Sicilia, Catania, dove la notte dell'1 gennaio si sono verificati diversi episodi di persone rimaste ferite a causa dei botti. Al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro sono arrivati da Paternò un 49enne di origini straniere con un trauma facciale e un'ostione al volto. Un 74enne con una ferita alla mano sinistra, un 35enne di Catania invece, è stato colpito alla mano da un colpo di pistola salve. Questi ultimi due sono stati dimessi senza gravi conseguenze. Sempre al Cannizzaro è stato operato per il distacco di un dito provocato dallo scoppio di un petardo un ragazzino di 10 anni arrivato dalla Calabria. Adesso andiamo ad Agrigento per un giallo in centro storico dove in via Porcello una donna di 79 anni è stata trovata cadavere. La vittima presentava una profonda ferita alla testa e non si esclude un tentativo di rapina finita nel sangue. L'ottantenne abitava in un appartamento al primo piano di una casa a pochi passi al centro città. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini che da giorni non avevano più notizie della signora anziana. Gli investigatori della squadra mobile di Agrigento hanno rinvenuto elementi che non permettono di escludere la presenza di terze persone sul luogo del delitto e dunque di attribuire la morte a cause naturali. Torniamo nella capoluogo dell'isola per il successo di pubblico riscontrato in occasione della concertona di Capodanno il momento clou della serata dopo la mezzanotte con la performance della cantante Elodie. Ha infiammato Piazza Politeama, fatto ballare ed entusiasmato il pubblico con la sua energia protagonista indiscussa del Capodanno di Palermo la regina del pop italiano Elodie è salita sul palco intorno a mezzanotte e venti ha intrattenuto la folla di spettatori cantando le hit più celebri come bagno a mezzanotte pazza musica e tribale ad assistere alla performance dell'artista romana che indossava un outfit nero circa 10.000 persone di più non potevano entrare visto il limite di capienza massima fissato dalla questura il contingentamento degli ingressi in entrata e in uscita infatti prevedeva la presenza in piazza di 9.800 persone contemporaneamente le regole del piano di sicurezza sono state rispettate non si sono verificati incidenti tra coloro che avrebbero desiderato assistere al concerto c'è chi dopo essersi fatto la fila per accedere all'area dell'evento è rimasto fuori per il limite sopraggiunto dopo i numerosi episodi di malamovida avvenuti negli ultimi mesi in città quest'anno i controlli delle forze dell'ordine dei vigilantes sono stati particolarmente stringenti ingresso negato anche a tutti i tipi di bevande alcoliche bombolette spray petardi insieme ad una lunga lista di oggetti allo scoccare della mezzanotte è salito sul palco il sindaco di Palermo Roberto Lagalla per gli auguri alla città cosa si pensa quando si vede una folla così ordinata con tanta voglia di divertirsi e di stare insieme che Palermo può essere e diventare sempre migliore è un anno importante il 2024 è il quattrocentesimo anniversario del festino di Santa Rosalia e io credo che tutti noi dobbiamo dedicare quest'anno al ricordo alla demozione ma soprattutto a proporci come cittadini migliori anche di fronte alla nostra patrona ad esibirsi prima di Elodie diversi artisti siciliani la serata di Capodanno condotta da Salvo La Rosa e dell'Iana Chiavetta è iniziata alle 20.30 uno show contraddistinto da musica e spettacolo ma anche dalla comicità di Antonino Pandolfo e Sergio Vespertino torniamo alla cronaca sono stati momenti di tensione quelli vissuti a Catania in un'abitazione del villaggio Delfino uno dei numerosi agglomerati abitativi vicino al mare in zona Vaccarizzo dove un 55enne nordafricano è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia una gazzella del nucleo radiomobile di Catania è intervenuta in un appartamento dopo che alcuni condomini avevano segnalato al numero di emergenza 112 una lite in famiglia hanno trovato un uomo a petto nudo sul balcone di casa che inviva violentamente contro i familiari nel frattempo hanno assistito la moglie una catanese di 51 anni che si stava sottoponendo già alle cure dei medici del 118 perché aveva prima accusato un malore i carabinieri avevano intuito le condizioni dell'uomo per l'alterazione psiofisica a causa dell'abuso dei balconici non cedendo alla provocazione sono riusciti a ricondurlo alla calma il 55enne ubriaco aveva iniziato ad inveire contro la propria moglie e dopo aver rotto il vetro di una finestra aveva iniziato a scagliare i frammenti di vetro proprio contro la donna fino a quando non aveva impugnato anche un cacciavite minacciando di ucciderlo l'aveva minacciata più volte urlandole ti ammazzo come si uccidono gli agnelli l'uomo è finito agli arresti domiciliari in un'abitazione diversa da quella che prima condivideva con i familiari il report 2023 diffuso dalla polizia postale di Catania evidenzia l'aumento dei reati sullo web dalla pedopornografia ai reati finanziari e di trading online vediamo aumentano i crimini informatici nelle province di Catania Messina Raguse e Siracusa così come rilevato dalla polizia postale di Catania diversi gli ambiti di intervento partiamo dalla lotta alla pedopornografia dove sono stati visionati analizzati 7300 spazi web di cui 670 inseriti in blacklist e poi oscurati mentre per l'attività di contrasto sono state materialmente denunciate 63 persone 4 soggetti sono stati arrestati purtroppo si conferma anche nel 2023 il coinvolgimento di minorenni in età compresa tra i 10 e i 13 anni nei casi di addescamento online dei 51 casi totali monitorati dal centro operativo sicurezza cibernetica della polizia postale sicilio orientale di Catania guidato da Marcello Labella infatti la fascia dei pre-adolescenti è quella che maggiormente ha avuto iterazioni sessuali tecnomediate la maggior parte riguarda minorenni in età tra i 14 e 17 anni prevalentemente maschi 792 casi riferibili a reati contro la persona commessi su web che hanno visto la polizia postale etne impegnata direttamente nel contrasto dei reati dalla diffamazione online alle minacce poi molestie cyber stalking revenge porn che hanno consentito la denuncia all'autorità giudiziaria di 64 persone e l'arresto di 7 soggetti in particolare tra questi sono stati 28 casi di cyber stalking la polizia postale nel report 2023 segnala pure l'intensificazione delle attività di prevenzione attraverso il monitoraggio attivo della rete oltre ad un'articolata attività di contrasto alle attività predatori online oltre 368 le persone denunciate una arrestata per un totale di 1925 casi trattati con danni per quasi 9 milioni di euro dunque vi è in atto un incremento degli affari illeciti legati al fenomeno del falso trading online passati da 80 a 185 casi in un anno per un totale di 4 milioni di euro di profitti illeciti il settore finanziario secondo la polizia postale è bacino molto remunerativo e in questo contesto si inquadra l'operazione grandi firme finalizzata al contrasto della vendita online di abbigliamento e accessori di marchi contraffatti con perquisizioni domiciliari ed informatiche nei confronti di 11 indagati la polizia postale si batte anche per la tutela del diritto d'autore di rilievo internazionale è stata l'operazione contro lo streaming illegale che a dicembre ha consentito l'identificazione di 21 persone un'associazione per delinquere a carattere trasnazionale finalizzata alla diffusione di palinzesti televisivi ad accesso ovviamente condizionato ma con danneggiamento di informazioni dati programmi informatici accesso abusivo a sistema informatico frode informatica sono stati sequestrati 21 pannelli di gestione utenti che consentivano l'inibizione dell'illecita diffusione dei segnali audiovisivi diretti a circa 50.000 utenti nell'ambito invece della prevenzione del contrasto alla diffusione di contenuti terroristici online in particolare del fenomeno di radicalizzazione sul web la polizia postale di Catania ha monitorato 20.566 spazi virtuali gettando una vera e propria rete di monitoraggio al fine di prevenire eventuali condotte illecite poi il capitolo formazione 210 gli incontri formativi ed educativi negli uffici scolastici delle province di Catania Messina Siracusa e Ragusa a cui hanno preso parte complessivamente 28.000 utenti tutti destinatari delle cosiddette notizie buone per meglio operare sul web i poliziotti della squadra volante della questura di Catania sono intervenuti in via Santissima Maria Assunta all'angolo con via Villa Scabrosa sottoponendo ad accertamenti un veicolo che si aggirava con fare sospetto identificato il conducente si tratta di un 44enne pregiudicato catanese l'uomo risultava destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere ai fini dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo per il reato di rapina aggravata provvedimento che è stato emesso dalle autorità tedesche nel 2019 l'uomo è stato quindi condotto nel carcere di Piazza Lanza a Catania cambiamo argomento la regione stanzia 115.000 euro per il restauro dei pastori a grandezza naturale del presepe settecentesco della Madonna della Neve a Torre Archilafi invece trafugato e restituito il bambinello del presepe di Piazza Scarcella 115.000 euro per il restauro conservativo dei pastori a grandezza naturale del presepe settecentesco ricavato in una grotta lavica naturale nella chiesa Madonna della Neve di Ecileale la regione siciliana ha finanziato il progetto di uno dei presepi più antichi di Sicilia su proposta del deputato Nicola D'Agostino i 35 personaggi della natività alcuni realizzati in cera abbigliati secondo i tradizionali paramenti del tempo ricamati a mano rappresentano uno dei migliori esempi di tradizione presepiale dell'isola al centro di un progetto di restauro in seguito al naturale decadimento di ricami degli stessi pastori che lo compongono uno spaccato di vita legata alle usanze del luogo intrise della più genuina tradizione popolare erano anni che la diocese e la politica locale spingevano per ottenere i fondi necessari al recupero di questo bellissimo esempio di natività realizzato in un ingrottamento naturale per espressa volontà di Don Mariano Valerio che nel 1752 inaugurò l'opera con il contributo e l'impegno dei parrocchiani che hanno ricamato gli abiti indossati dai 34 personaggi mettendo in risalto usi e costumi della Sicilia più rurale dal 700 metà di pellegrini turisti e villeggianti soprattutto durante le festività natalizie l'infiltrazione di acqua piovana dal tetto fecero temere il peggio trattandosi di manufatte antiche piuttosto fragili con quest'ultimo intervento il sito finalmente verrà messo in sicurezza ai pastori restituiti alla bellezza di un tempo sarà la sovrintendenza ai beni culturali di Catania ad occuparsi del restauro conservativo la soddisfazione di Don Giovanni Mammino direttore del museo di Cesaro di Ecireale uno dei massimi esperti del presepe settecentesco della Madonna della Neve sì una buona notizia per tutti noi perché viene preso in considerazione il nostro presepe il presepe che aveva veramente bisogno di restauro sono passati 40 anni dall'ultimo restauro e i manufatti si sono alquanto deteriorati e quindi per noi veramente è una buona notizia perché con questo restauro è possibile rilanciare l'attività del presepe che è stata ben avviata in questi ultimi anni dall'associazione presepe settecentesco guidata da Paola Riccioli e Giuliana Pistarà e insieme stiamo lavorando veramente bene e quindi con questo restauro potranno andare avanti le iniziative di questa chiesa la chiesa di Santa Maria della Neve sono tante le iniziative soprattutto di carattere non solo culturale ma anche turistico sì quest'anno abbiamo avuto veramente un incremento ampio di visite ma la cosa bella è che visite dal punto di vista turistico ma anche belle attività dal punto di vista culturale ma soprattutto le attività dal punto di vista ecclesiale le celebrazioni in particolare ricordo la bella celebrazione della notte di Natale che è stata vissuta intensamente quello è il luogo giusto per vivere un'esperienza profonda di spiritualità e di preghiera buone notizie giungono anche da Torre Archirafi Borgata Marinara frazione di riposto in cui era stato rubato il bambinello dal presepe allestito in piazza Scarcella il gesto sacrilego aveva indignato l'intera comunità religiosa pressioni che hanno convinto l'autore del furto a restituirlo alla devozione dei fedeli e ancora buone notizie per quanto riguarda Acideale con il nuovo anno che si apre con appunto la notizia che sarà asfaltata per intero la via Cristoforo Colombo attraverso due finanziamenti di 300 mila euro dalla regione e 200 mila euro dall'ex provincia è una strada di ingresso alla città particolarmente ammalorata in più punti quindi una notizia ottima per gli automobilisti per quanti vi transitano il nuovo anno si apre con buone notizie sul piano della viabilità la via Cristoforo Colombo verrà pavimentata per intero e non più a tratti come in passato quando le prime piogge di stagione si manifestavano grosse buche sul manto stradale rattoppato la notizia ufficiale tra qualche settimana dovrebbe essere pubblicato il bando per l'affidamento dell'opera di bitumazione entro la fine del mese di gennaio almeno di intoppi burocratici in via ai lavori i fondi 300 mila euro sono stati concessi dalla regione altri 200 mila euro stanziati dall'ex provincia ad ultimazione di una tratta viaria tra le più trafficate del circondario accese in cui sono presenti diverse attività commerciali che richiamano migliaia di utenti oltre al passaggio dei mezzi di ingresso e uscita dei barchi dell'autostrada 18 e il collegamento con i paesi etnei già esecutivo in fase delle somme necessarie invece il progetto per la realizzazione della rotatoria nel crocevia ridosso dell'accesso autostradale e la diramazione viaria con i comuni pedemontiani il piano di lavoro è fermo al CAS consorzi autostrade siciliane e dovrebbe essere sbloccato entro l'anno riprenderanno almeno di nuovi intoppi subito dopo l'epifania i lavori in fase di realizzazione della rotatoria su Viale Colombo nella diramazione con la frazione di San Cosmo e la nuova aria urbanizzata a nord della città agli scavi non sarebbero seguite le altre opere a completamento della bretella di ingresso a quanto pare per mancanza di operai da parte dell'impresa giudicataria la pericolosa strettoia con devezione del traffico su singola caraggiata crea non pochi disagi alla viabilità nell'intero asse viario il sindaco Roberto Barbagallo assicura la ripresa dei lavori a breve e annuncia la pavimentazione dell'intera tratta di Viale Cristoforo Colombo per un ammontare di circa mezzo milione di euro penso che arriveremo a farla tutta eventualmente interverrà il comune adesso credo che andremo in gara nel più breve tempo possibile via Cristoforo Colombo merita merita per la pavimentazione ma merita anche per finalmente la via e il completamento di alcune rotatorie che servono a snellire il traffico nell'ultimo mese purtroppo i lavori sono stati fermi nella parte nella rotatoria che stiamo facendo grazie al contratto di quartiere però la ditta so che già dopo l'epifania inizierà e credo celermente andremo a realizzare quella rotatoria in attesa dell'atta su via Lazzaretto e l'entrata della città l'abbiamo detto in consiglio comunale l'abbiamo ribadito abbiamo ricercato i fondi ce li abbiamo adesso li dobbiamo semplicemente spendere e far diventare via Cristoforo Colombo un gioiello commerciale quello che di fatto è c'è anche un'altra questione della rotatoria all'ingresso dei barchi autostradali di cui si parla da qualche anno quella è una questione annosa il problema appunto di questa realizzazione della rotatoria il progetto esecutivo in quell'area doveva finanziarlo il CAS ad oggi non abbiamo appunto il finanziamento saremo noi andare direttamente a Messina appunto a sollecitare e a vedere di trovare come realizzare questa rotatoria ripeto il progetto è definitivo ed esecutivo e quindi occorre l'apporto delle somme aspettiamo con grande fiducia che il nuovo anno si realizzi anche questo ancora la cronaca i carabinieri di Motta Sant'Anastasi hanno arrestato in flagranza una 29enne di Adrane un 52enne di Biancavilla entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio per chi è responsabile di furto aggravato in un supermercato di paternò i militari allertati al direttore dell'esercizio che dalle telecamere del punto vendita aveva notato come la donna avesse prelevato 8 bottiglie di un costoso liquore da uno scaffale che aveva riposto in un sacchietto prima di entrare nel bagno il giorno prima era stata notata all'interno dell'esercizio di vendita senza che avesse comprato nulla giorno in cui era stato registrato l'ammanco di 9 bottiglie di liquore da uno scaffale pertanto dopo il racconto del direttore militare con l'ausilio del personale femminile sono entrati nei bagni del punto vendita dove hanno sorpreso la 29enne intenta ad asportare i dispositivi antitacchieggio dalle 8 bottiglie di liquore appena prelevate dallo scaffale con l'evidente intenzione di volerle rubare i carabinieri non si sono fermati nel parcheggio hanno trovato un uomo alla guida di una Fiat Panda con il motore acceso e l'evidente scopo di darsi alla fuga appena la donna avesse raggiunto la macchina con la refurtiva pertanto anche l'uomo è stato arrestato dai carabinieri dal 24 dicembre il primo gennaio 2024 sono stati 2.839 i migranti accolti nell'hot spot di Lampedusa gestito dalla Croce Rossa italiana a fronte di 2.755 persone poi trasferite lo ha reso noto la stessa associazione i paesi di provenienza della maggior parte sono stati quasi per il 60% Siria, Egitto, Tunisia e Bangladesh oggi sono 93 al momento le persone presenti nel centro di prima accoglienza di Contrada in Briacola a seguito di un trasferimento di 260 persone è stato un Natale di non pochi sbarchi sull'isola afferma in una nota il presidente della Croce Rossa italiana Rosario Valastro che poco prima di Natale si era regata a Lampedusa per la giornata internazionale delle migranti indubbiamente il sistema di prima accoglienza a Lampedusa e di trasferimento dall'isola sta funzionando dice grazie a tutti coloro che sono operativi ma bisogna sottolineare come anche l'inverno non veda un retrocedere gli arrivi degli sbarchi segno che il fenomeno migratorio è come più volte detto ormai un'eccezione ma non è un'eccezione ma continuo nel tempo sono grato aggiunge Valastro tutti i volontari degli operatori che non sono a Lampedusa ma nei vari porti d'Italia si stanno praticando per l'accoglienza dei migranti mi auguro che il 2024 conclude nella nota possa essere un anno in cui le misure messe in campo dall'Italia trovano efficacia ma anche un anno in cui si renda sempre più possibile l'aiuto umanitario di questi migranti in un sistema che non può essere a misura delle persone che entrano nel circuito dell'accoglienza non può chiestere ovviamente e adesso cambiamo ancora argomento presentata a Catania l'edizione 2023-2024 del premio intitolato alla critico teatrale Domenico Danzuso sono nove complessivamente le personalità insignite del prestigioso riconoscimento il premio Domenico Danzuso taglia il traguardo della 22esima edizione il riconoscimento intitolato alla grande critico teatrale catanese assegnato quest'anno a nove personalità e tra questi Fabrizio Maria Carminati Giuseppe Di Pasquale Alberto Ferro Alfredo Guglielmino Gianni Latino Anna Malvica Aldo Mattina Gianni Scuto e Angelo Tosto l'appuntamento si è consolidato negli anni tra quelli più in vista ed importante del panorama culturale catanese non solo stamattina la presentazione ufficiale è con grande piacere che abbiamo come dire autorizzato l'annionata associazione del premio Danzuso a poter avere la sede presso il nostro conservatorio questo per noi è un motivo di grande vanto peraltro qui da tantissimi anni esiste una sala intitolata con un ritratto che magari sarà possibile far visitare anche alle persone che vengono nel nostro conservatorio dedicata proprio a Domenico Danzuso che è stata una gloria della nostra città finalmente il premio Danzuso acquisisce attraverso la istituzione dell'associazione anche un rilievo una dimensione regionale in maniera tale da poter offrire i locali del conservatorio come un luogo naturale dove si debba svolgere questo premio da qualche tempo si pensava di dare continuità a questo premio e per questo motivo è stata costituita un'associazione denominata appunto associazione premio Domenico Danzuso per conservare negli anni la memoria di questo illustre critico teatrale di Catania e dare anche continuità a questo premio infatti questa associazione è stata fondata da due rami della famiglia uno rappresentato da me e da mia sorella Maria Danzuso e un altro ramo rappresentato da Giuseppe con i fratelli Mazzaro Danzuso lo scopo dell'associazione è appunto quello di preservare negli anni questo premio perché prima questo premio che era nato da una idea del presidente della SCAM negli ultimi anni andava avanti sempre con la grande forza di volontà della moglie di Mice Danzuso la zia Lina è il valore della cultura della memoria per una città come Catania ma non solo per Catania per l'intera Sicilia quella Sicilia che attraverso lo spettacolo esprime le sue pulsioni le sue necessità ecco perché il premio Danzuso è arrivato alla 22esima edizione ecco perché speriamo che continui una notizia di sport adesso nello specifico di Pallavolo Farmitalia Saturn ha comunicato di aver sollevato all'incarico dell'allenatore della prima squadra il signor Cesar Douglas Silva al quale va ringraziamento per il lavoro svolto fino a questo momento la conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a Giuseppe Bua che sarà coadiuvato da Mauro Puleo nelle vesti di secondo allenatore dell'assistente allenatore Mauro Lodeserto dal preparatore atletico Daniele De Ceglia con questa notizia per il momento ci fermiamo linea alla regia a tra poco per il meteo non ci sono ulteriori aggiornamenti vediamo dunque insieme le previsioni meteorologiche il meteo in Sicilia nella giornata del 3 gennaio 2024 sole misto a nubi un po' dappertutto i mari saranno tendenzialmente calmi le temperature previste restano più o meno stabili rispetto ai giorni scorsi con un leggero innalzamento quella più alta si preventiva a Siracusa con 19 gradi 1 in meno a Catania 18 la massima 10 la minima nel capoluogo etneo vi ricordo che potrete seguire questa edizione della telegiornale sul sito retv.it e sui nostri canali social il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta è previsto per domani a partire dalle 14 ringrazio il regia Fulvio Ferrauto e vi auguro una buona serata arrivederci a partire